Giancarlo Longhi, CoriPet, un accordo che abbiamo sottoscritto come unice recentemente sulla gestione dei rifiuti pet per i comuni, sempre una parte della green economy fondamentale. Corrado se ci sei in un minuto presentaci quello che state facendo brevemente e poi proseguiamo a ragionare di Borghi. Un saluto, grazie dell'invito. Devo dire che ho molto più imparato io in questo pomeriggio di quanto probabilmente potrei trasmettervi soprattutto da uomo di collina se non proprio di montagna. Allora io mi occupo di plastica e CoriPet è il consorzio del riciclo del pet che fa parte delle bottiglie dell'acqua minerale per intendersi ed è la prima esperienza europea di sistema IPR per il riciclo diretto, per la rifabbricazione dello stesso prodotto. Quindi c'entra in pieno il tema dell'economia circolare che da prodotto fa un altro prodotto. Perché Marco mi ha invitato? Marco mi ha invitato perché, e poi credo che faremo diciamo una diffusione molto puntuale nelle prossime settimane, perché come CoriPet abbiamo firmato un accordo diciamo con Unicem per introdurre questo sistema innovativo della raccolta selettiva delle bottiglie per farne altre bottiglie. Qual è la problematica che accomuna diciamo questa iniziativa con la logica della montagna e con la logica che sta alla base della nuova economia circolare del New Deal o del Green New Deal? Il fatto che vi sono delle norme europee riguardanti la raccolta delle bottiglie e il loro riciclo che impongono, e questa ecco direi la grande novità, che impongono di cambiare radicalmente i modelli organizzativi della raccolta. Sentendo i vari interventi devo dire che mi sono abbastanza distaccato da i concetti che per esempio ha espresso Matteo Ricci, che peraltro conosco molto bene e con cui di solito mi trovo in sintonia. Perché? Perché io invece mi trovo molto più in sintonia con quanto ha detto il professor Santolini che ha parlato di unità ecologiche funzionali. Questo si sposa benissimo con il concetto di filiera. Che cos'è la filiera in fin dei conti? La filiera è un assetto organizzativo di un materiale, di un servizio per cui si parte dal momento in cui un certo bene, un certo materiale viene fabbricato e introdotto sul mercato fino al suo recupero a fine vita. Allora, per poter organizzare in maniera corretta e coerente un servizio di raccolta dei rifiuti e in particolare di certi materiali come la plastica è importante avere un assetto organizzativo proprio che parte da queste unità ecologiche funzionali. Perché io devo legarmi assolutamente alle caratteristiche del territorio perché fare un servizio, voi lo sapete benissimo, di gestione dei rifiuti in città, in aree urbane è un conto. Farle in altri territori come quelli in montani assume tutt'altro significato. perché ci siamo trovati con Marco a provare questo nuovo modello? Perché noi riteniamo che i modelli di raccolta selettiva che includono il concetto di filiera porta a un modello organizzativo che da un lato consente la minimizzazione dei costi e dall'altro la massimizzazione del riciclo, nel senso che ad ogni tipo di territorio va associato una organizzazione del servizio, ecco la logica delle unità funzionali, che sia in linea con le caratteristiche del territorio stesso. Che sembra una banalità ma non lo è perché oramai tutti pensano che i modelli standardizzati siano quelli migliori tipo il porta a porta mentre invece bisogna andare a orientare i servizi proprio in funzione delle caratteristiche del territorio e questo consente di creare anche delle nuove professionalità che sono non solo quelle dell'organizzazione ma di una raccolta che è in linea appunto con le caratteristiche del territorio.